C'è aria di novità qui in Valdinon, anzi c'è proprio un bel venticello. Qui oggi a Mollaro di Predaia si svolge la fiera conosciuta come la Primavera dei Meli della Valdinon o nota anche come Fiorinda. Fiorinda è un evento speciale, un appuntamento che ogni anno in Valdinon celebra la Primavera che trasforma come per incanto l'intera ballata in una sconfinata distesa di boccioli bianchi. È proprio così che nasce Fiorinda, la manifestazione che celebra la cultura, la gastronomia e la frutticoltura che rendono unico questo territorio. Proprio qui, in Valdinon, vive e lavora a Mery della Grazia che con la sua azienda, l'essenza nel bosco, da anni si dedica alla coltivazione biologica e alla realizzazione di prodotti naturali. Buongiorno, io sono Mery della Grazia e vi presento qua i nostri prodotti frutti di un'azienda agricola che si è appassionata della coltivazione delle piante ufficinali. Tutto nasce e viene da lontano, io in origine vengo dal lago di Garda, mi ha portato qui la conoscenza di diversi miei compagni che frequentavano la scuola forestale con me e mi hanno detto vieni a conoscere le belle montagne della Val di Non, effettivamente me ne sono innamorata, è un bellissimo territorio, un territorio tutto da riscoprire perché si stavano dimenticando delle cose bellissime che ci sono qui da noi come le piante ufficinali. E da lì è nata la voglia di voler riportare a conoscenza questi usi e per questo abbiamo rimesso a nuovo una vecchia baita dove in estate soggiorniamo e dove abbiamo la coltivazione. Si trova a 1350 metri d'altitudine nella zona della forcella di Bres e lì ospitiamo anche gruppi, famiglie, soprattutto scuole, dove facciamo didattica perché il bello è far riscoprire soprattutto ai bambini quanto è bella la natura e quanto ci può donare. Ringrazio anche le persone anziane che mi hanno e che hanno lasciato delle ricette che ci hanno permesso di poter riutilizzare queste piante ufficinali e noi le abbiamo in qualche modo rimodernizzate cambiando determinate ingredienti ma abbiamo riutilizzato diciamo quello che è sul nostro territorio. Le piante ufficinali hanno tantissimi usi dall'uso culinario a un uso curativo anche dei usi dal punto di vista estetico. Noi abbiamo cercato di inglobare in tutta la nostra azienda un po' i vari usi, abbiamo un laboratorio di essicazione, trasformiamo in infusi, abbiamo una variegata tipologia e dopo abbiamo fatto degli unguenti, delle lozioni, sempre rispettando la natura delle erbe. Noi abbiamo creato, abbiamo un nostro sito www.lessenzanelbosco.it dove si può visionare tutto quello che facciamo, i tempi di apertura e anche acquistare i nostri prodotti e dopo vi aspettiamo nella nostra bella baita. Ad un evento come Fiorinda non poteva ovviamente mancare lo spazio dedicato alla gastronomia come l'Isola dei Sapori che da oltre 20 anni offre ai suoi clienti prodotti freschi, genuini e di massima qualità. Ce ne parla Simone Maccani. Io sono Simone, famiglia di Maccani, di Dermulo, faccio un alimentare, prodotti tipici, sto pensando di convertirmi tutto quanto in parte al biologico. Abbiamo acquistato dei terreni proprio ai piedi del noce, un bellissimo posto dove si presta proprio a produrre in modo sano. Si può trovare succo di mela, succo di mela mirtillo, lo strudel e lo speck. Questiamo prodotti sempre del Trentino, un Valdinon, un Alto Adige. Abbiamo dei formaggi particolari, stagionati, di mucca, di capra, sempre degli alpeggi, delle lucaniche stagionate. Il negozio si è specializzato nella vendita di prodotti tipici della Valdinon e del Trentino e propone speck, formaggi, saloni tipici e soprattutto mele di tante varietà. Tra gli espositori di Fiorinda troviamo anche la Corte dei Ciliegi, l'azienda agricola dove si coltivano e raccolgono i tesori della terra, tra cui le ciliegie e il Ribes Rosso. Grazie alla lavorazione di questi frutti appena colpi, si possono gustare composte e succhi da sapore unico, rigorosamente senza aromi naturali e senza conservanti. Parola di Luca Segata. Mi chiamo Luca, ho 50 anni e da un anno a questa parte ho deciso di cambiare modo di lavorare i miei prodotti. dal fatto di consegnare ad un magazzino al fatto di fare un trasformato e di vendere direttamente i prodotti sul mercato. Come potete vedere ci trovate ai mercatini, in diversi punti del Trentino ed in più vendiamo direttamente dal nostro piccolissimo punto vendita che abbiamo vicino al laboratorio che è sito a Sopramonte, provincia comunque di Trento. I prodotti che produciamo per la maggiore sono a base di Ribes abbinato ad altri frutti che comunque ho sempre io. Cioè la frutta di base è prodotta dalla mia azienda. È una piccola azienda, come stavo dicendo, che lavora principalmente Ribes e ciliegie. Questi trasformati che contengono solamente frutta e un po' di zucchero per la conservazione vengono lavorati con un macchinario un po' innovativo. Su questo prodotto invece che andare in ebollizione e superare dei gradi viene lavorato a 60-65 gradi per mantenere tutte le qualità organoletiche della frutta. Come ho già detto, alla base maggiore ho il Ribes, in quanto produco un bel po' di Ribes che abbino alle prugne, all'uva, al mirtillo, al ciliegio, allo zenzero, alla menta, alla vaniglia. Abbiamo fatto diversi gusti che per quanto riguarda la frutta sono comunque frutti che lavoro io. Invece lo zenzero e la menta vengono acquistati direttamente in negozio. Abbiamo dei vasetti, tre tipi di vasetti. Abbiamo il vasetto piccolino da 106 grammi, abbiamo il vasetto un po' più grande da 210 e abbiamo un vaso un po' più grande da 320. La differenza fra, come abbiamo scritto qua noi, composta e confettura e marmellata sta solo nella percentuale di frutta che c'è nel vasetto. Come ho già detto, noi con questo tipo di macchinario innovativo restringiamo la frutta portandola a una concentrazione tale che diventa una mousse di frutta e quindi si può chiamare composta perché la percentuale di frutta in un vasetto è superiore al 100%. Produciamo anche un succo di ribes molto limpido con questo macchinario che dal frutto stesso ricava questo concentrato di ribes che poi deve venire allungato con dell'acqua fredda o calda a piacere del gusto. Superiore al 100% vuol dire che il prodotto che vi è messo in questo macchinario su 30 kg di prodotto che mettiamo dentro al macchinario già disossato, già sbucciato riusciamo a restringerlo togliendo l'acqua, riusciamo a restringerlo fino a 15-20 kg di prodotto. Quindi facendo ciò, restringendo, riusciamo a superare il 100% di frutta messa nel vasetto. Ci trovate su internet al nostro sito www.cortedeiciliegi.it Facciamo spedizioni, basta richiedere la nostra mail che è la cortedeiciliegi.tn.gmail.com Il mio prodotto preferito è la ribes ciliegia, fantastico quello, ha un abbinamento, c'è il dolce e un po' l'asprino che è quello che risulta un po' meglio. Per chi desidera rinfrescarsi il palato non manca lo spazio dedicato alla degustazione della birra artigianale. Alberto Massimo e il mastro birraio Matteo Mariano ci raccontano le delizie della birra Clasium in tutte le sue diverse varianti. Io sono qui a rappresentare uno dei tre soci del birrificio Clasium, nato l'anno scorso con lo scopo di creare una birra artigianale di qualità elevata rispetto a una solita birra che si può trovare a livello commerciale. Produciamo delle birre non filtrate, non pastorizzate, con dei sapori, dei profumi, dei gusti particolari, intensi. Solitamente chi si rivolge a questo mondo è una clientela che si intende di birra artigianale e che vuole assaporare una birra con una certa corposità, un certo gusto. Il mercato delle birre artigianali è passato dall'1% al 3% negli ultimi due anni del consumo nazionale. È una piccola percentuale ma è molto importante il salto dall'1% al 3%. La percezione è quella di orientarsi verso un prodotto di qualità, come la gente si orienta verso un ottimo vino, si può orientare verso un'ottima birra. Produciamo appunto quattro tipologie di birra, una birra bionda, stile lager, quindi uno stile tipicamente tedesco, abbastanza classico, quindi un profilo aromatico molto generico, molto diciamo tradizionale tedesco. Poi produciamo una birra Weiss, quindi una birra tipicamente anche questa tedesca. Qui facciamo un'aggiunta di lupolo selvatico che raccogliamo sul lago di Santa Giustina una volta all'anno e essicchiamo e conserviamo il nostro birrificio. Produciamo anche una Blanche, una birra stile belga, di base molto simile alla Weiss, però viene poi aromatizzata con una buccia d'arancia e il coriandolo, quindi un po' più speziata, però molto fresca, estiva e dissetante. Infine una Indian Pale Ale, quindi una birra stile inglese, ambrata, più alcolica, molto più profumata e aromatica. Ci sono molti più ingredienti, quindi sono tre tipi di malto e cinque tipi di lupolo che vengono un po' da tutto il mondo. Questo per creare un profilo aromatico molto più complesso e molto più profumato e molto più saporito. Sicuramente ogni tipologia di birra ha il suo abbinamento ideale, quindi può essere comunque scelta in base alla stagionalità, quindi anche al caldo, freddo, c'è una birra più estiva, una birra più invernale, quindi un gusto più forte e viene anche comunque abbinata, come con il vino, a dei pasti selezionati, quindi c'è la birra più forte, col profilo aromatico molto più complesso che viene abbinata a piatti di gusto più forte, che può essere la carne selvaggina, oppure c'è la birra molto più leggera, un gusto molto più morbido che viene abbinata a antipasti, insalate, piatti di pesce. Mia birra preferita è appunto la Ipa, quindi l'ultima che ho descritto, però è una cosa che comunque è un gusto personale, quindi poi ognuno ha la sua preferita, diciamo. Lavorare la terra significa non solo sudore sulla fronte, ma anche il sapiente utilizzo dei macchinari adatti e l'obiettivo di Ferrer Expert è proprio garantire prodotti selezionati di alta qualità e sicurezza, prezzi concorrenziali. In questa moderna ferramenta a gestione familiare si può trovare un vasto assortimento di prodotti e raccontarcelo è Sara Bertò. Ciao, io sono Sara, lavoro alla Ferrer Expert, una ferramenta del luogo di Mollaro, una ferramenta che ha aperto sei anni fa su decisione di mio fratello e che dopo molti anni come dipendente presso un'altra ferramenta ha deciso di aprire in proprio e adesso l'attività sta andando bene. Noi puntiamo molto sul rapporto con il cliente, sul fatto che il cliente ritorni e sia felice e entri un po' nella nostra famiglia. Noi cerchiamo di far valere l'onestà e anche la professionalità, in modo che il cliente quando esca sia sempre felice e torni soddisfatto, non ci interessa il grande guadagno ma ci interessa che il cliente sia contento. Da noi si trova un po' di tutto, dal casalingo, dall'ortofrutta, dall'elettrotensi di abbigliamento antinfortunistica, scarpe, motoseghe, dall'A alla Z, diciamo. Per una ragazza è stato un po' dura iniziare a lavorare in una ferramenta soprattutto perché c'è un mondo, un mondo molto maschile, però devo dire che piano piano anch'io ho le mie soddisfazioni. Nella ferramenta entra dal ragazzo alla signora che cerca magari un cacciavite piuttosto che un cavatatti, entra il contadino, entra l'impresario, entra il bambino con il genitore perché voleva un giocattolo, una motosega giocattolo, abbiamo anche quello, entra chiunque perché veramente c'è dalla molletta per stendere all'idropulitrice, si parte da un centesimo di una vite a migliaia di euro. Vi aspettiamo a segno di Predaia, presso il centro commerciale, alla Ferexpert, siamo aperti dal lunedì al sabato, il sabato solo la mattina dalle 8 alle 12, tutti gli altri giorni anche il pomeriggio dalle 14 alle 19. Vi aspettiamo presto. A Fiorinda non potevano certo mancare i protagonisti della manifestazione, i fiori, e i pollici verdi che si occupano della fioreria all'angolo del verde appartengono a due gemelli doc che insieme alle rispettive mogli si dedicano con amore e passione al loro negozio di fiori e piante a Cless. E a raccontarcelo è proprio uno dei due fratelli, Claudio Ballarini. Buongiorno, mi chiamo Claudio Ballarini, con il mio gemello e le nostre mogli gestiamo una fioreria in piazza Cless da 18 anni ormai, il lavoro va bene e in più facciamo qualche mercato sia a Piemollaro, in paese Cless, per la fiera del primo maggio e qualsiasi altra occasione capiti la sfruttiamo insomma. Lavorare in mezzo ai fiori è bello, ti da la possibilità di vedere tanti colori, tante piante nuove, ogni anno hai la possibilità di viaggiare, comprare sia sul web, su internet, andare sul posto in Olanda, Germania, Francia, in tanti posti d'Europa comunque. E poi insomma è un mercato molto vasto. Un fiore che va per la maggiore diciamo che le piante da interno, le orchidee soprattutto, tante varietà di orchidee, dopo sbarriamo tantissimo su altri fiori, per la primavera, ogni stagione ha il suo fiore diciamo. In più le piante da interno, quelle che vanno di più sono sempre le orchidee, anturium, spatifilium, piante verdi, piante fiorite, di qualsiasi genere comunque. Gli uomini soprattutto li vediamo nelle occasioni della festa della donna a San Valentino, ricorrenze di anniversari, matrimoni e dopo ci sono anche tanti uomini che hanno la passione dei fiori, che vengono loro direttamente a comperarseli sia per casa che per giardino o qualsiasi occasione comunque. Si lasciano molto consigliare da noi, è più facile con gli uomini ovviamente perché le donne sono un po' più difficili da gestire, gli uomini invece si accontentano molto più facilmente. Il mio fiore preferito, non ce n'è uno in particolare, ce ne sono diversi, tutta la linea dei bulbi, perché li vedi, cioè li pianti, li vedi crescere, li vedi fiorire, tutto. Dopo tutte le piante sono belle ovviamente. Mi piacciono molto le piante, diciamo, asiatiche, dei tropici, quelle un po' strane. Cerco sempre di mettere dentro qualche pianta diversa, nuova per dare l'occasione anche alla gente di conoscerle questo. Mia moglie ovviamente lavorando con me non è che io gli possa regalare i fiori. Quando non facevamo questo lavoro gli regalavo spesso i fiori. Adesso avendoli in negozio se li porta a casa da sola. Il suo fiore preferito è la rosa bianca. Bene, questo è tutto. Il nostro negozio comunque ricordo che si trova a un'eclis in piazza di fronte alla chiesa. È aperto tutti i giorni. L'unica mezza giornata di riposo è lunedì pomeriggio. Ci potete contattare sia su internet, su Facebook, ci troverete o su qualsiasi giornale dei fiori o anche su internet. A Fiorinda troviamo un ampio spazio dedicato al coordinamento operatori economici di Predaia. Aziende in sinergia per fare economia. Questo è lo slogan dell'associazione, il cui obiettivo è rappresentare tutte le realtà economiche del comune di Predaia. A parlarcene è il suo presidente Ivan Larker. Sono Ivan Larker e rappresento da presidente il coordinamento operatori economici del comune di Predaia. Il coordinamento operatori economici è un'associazione che vuole rappresentare tutta la realtà economica del nostro comune, quindi artigiani, commercianti, libri professionisti, industriali, imprenditori agricoli e operatori turistici. È una situazione che è nata nel 1996 nell'ex comune di Taio e con la nascita del nuovo comune di Predaia si è allargata sul territorio e da un anno e mezzo cerchiamo di allargare la nostra conoscenza, di farci conoscere un po' sul territorio. Abbiamo attualmente 130 soci, abbiamo ad aumentare di molto il numero dei soci, ci stiamo lavorando. Ci siamo confrontati sul nostro tavolo del direttivo e con la nascita del nuovo comune, con l'entrata di paesi dove il turismo è molto sentito, abbiamo pensato di voler investire nel settore che consideriamo forse l'unico settore con ampia possibilità di sviluppo, il settore turistico. Parliamo di un turismo rurale sostenibile e quindi abbiamo pensato di creare un bando. È un incubatore di idee aperto a tutti, studenti, privati, imprenditori, che vogliono portare le loro idee qui sul territorio di Predaia e possibilmente creare nuove, possibili e anche sostenibili attività turistiche concrete che si spera nei prossimi anni possano aprire sul nostro territorio. Per questo abbiamo creato questo incubatore di idee, diciamo, che premierà la migliore idea che potrà anche essere quella di uno studente con un premio di 2.000 euro, però è pronta a investire in una start-up con un finanziamento fino a 10.000 euro per chi effettivamente vorrà aprire una nuova partita IVA, una nuova attività e fare turismo nel nostro comune. Fortunatamente, soprattutto con la nascita del nuovo comune e con la nuova amministrazione comunale abbiamo avuto grandissime soddisfazioni, abbiamo trovato una sinergia importante con gli amministratori, condividiamo dei progetti insieme e quindi è anche facile capire che con l'aiuto di tutti, la visibilità della societazione cresce, le possibilità di dare delle risposte ai nostri risultati anche e quindi chiaramente siamo in evoluzione, speriamo di poter essere sempre più importanti ma soprattutto di poter aiutare concretamente sempre di più le attività economiche. Questo è un ingranaggio, il nostro logo è formato da sei ruote, sei ingranaggi che rappresentano le diverse realtà economiche che compongono il coordinamento. Come sappiamo gli ingranaggi girano solamente se sono all'unisono e quindi se tutti quanti gli ingranaggi compiono un giro coordinato, noi siamo appunto un coordinamento e vorremmo che ci fosse questa sinergia della realtà economica e che tutto diciamo girasse per il verso giusto. Sono periodi difficili però siamo molto ottimisti e quindi vogliamo che trasmettere questo entusiasmo affinché le ruote girino poi sempre più velocemente. Il coordinamento operatori economici crede nel territorio di Predaia, vuole farlo crescere, investiamo sulla sinergia delle diverse realtà economiche, veniteci a trovare, visitate il nostro sito e la nostra pagina Facebook, il nostro sito è www.coordinamentopredaia.com La nostra pagina Facebook seguendo il nome del coordinamento è facile da rintrazzare, abbiamo bisogno dell'apposso di tutti. Grazie. 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 E per oggi è tutto, noi vi aspettiamo il prossimo anno a Mollaro di Predaia per una nuova imperdibile edizione di Fiorinda. Grazie.